Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video guida dal vostro Zorkeos in the world Oggi sono qui per andare a completare la prima missione degli incarichi epici della settimana 5 La prima missione ci chiede trova la moneta blu sepolta a corso commercio Beh, che dire, andiamo subito in game e let's go! Eccoci qua ragazzuoli, come potete vedere ci troviamo a corso commercio In questo momento andiamo a trovare la moneta blu sepolta Che si trova precisamente, vedete che qua c'è corso commercio, c'è l'entrata, ok? Alla casa gialla, che sarebbe tra virgolette la casa cucciacane In questo punto esatto, proprio qui, ok? Dove ci troviamo All'entrata della casa gialla si trova la moneta blu sepolta Molto semplice e io spero che questo video guida vi sia stato d'aiuto Noi ci vediamo ad un prossimo video guida di Fortnite Mi raccomando ragazzuoli di seguirmi su Instagram Trovate tutto in descrizione ovviamente, TikTok eccetera eccetera E mi raccomando di iscrivervi al canale e attivare la campanella E se volete inserite il codice creatore Dark92 nel negozio oggetti Vi auguro una buona vigilia di Capodanno a tutti voi E ci vediamo ad un prossimo video guida di Fortnite Bella ragazzuoli! Ciao! Ciao!